secondo tempo. In fase di commento hanno rimarcato però la tua parata, la rivedrai sicuramente nel corso magari della serata è stata una parata importante, noi a casa, loro a casa la stanno rivedendo anche adesso. No, è stata una bella parata, però adesso non pensiamo a guardarla stasera, pensiamo al secondo tempo. Grazie, bocca al lupo. Pazzesca la parata di Pavoni, più la rivediamo e più ci piace, con la qui, grazie alla regge di Pietro Rabita. Intervento senza senso, non ci sono altre parole. Non ci sono parole per descrivere l'intervento di Pavoni e ricordiamo che erano pazzeschi e le mie parole verranno prontamente dimostrate dalle immagini, direi questa principale, basta per confermare quello che vi dicevo, la grandissima parata di Pavoni dopo 30 secondi di gioco sul tiro a botta sicura di Sinani da distanza ravvicinatissima, ottimo il pallone di Forte proprio per Sinani, ma che intervento di Pavoni, più lo rivedo e più mi stupisco di quanto sia stato eccezionale il porterino del Chio Verona a salvare tutto, poi molto bravo anche Guarnone nel corso di tutto il primo tempo è riuscito sempre a fermare un Chio Verona che è partito così così poi si è ripreso alla grande, eccola la bella parata di Guarnone sul destro alla distanza di Danieli, capitano del Chio Verona, si coordina bene dai 30 metri, mira l'angolino ma Guarnone è eccezionale ed eccezionale anche a ripetersi sul colpo Grazie a tutti